I am born to farm. Sono nato per l'agricoltura. Benvenuti a Rivarolo Canavesi in provincia di Torino. Benvenuti nella mia azienda attiva dal 1950. Prima condotta da mio nonno, adesso ci sono io con i miei tre nipoti. Noi abbiamo 150 ettari di terreno tra cui 100 coltivati a Prato, 25 a mais e 25 a grano turco. Abbiamo 550 capi di bestiame tra cui 150 all'ingrasso e 400 in allevamento. Sono cliente Massey Ferguson da sei mesi e mi servo dal consorzio agrario del nord ovest. Ho scelto di guidare il Massey Ferguson 5007m. Vi aspetto tutti all'evento del 3 settembre Bored to Farm.